Il sindacato Fesica dell'Aquila proclama lo stato di agitazione per gli iscritti dipendenti della DUSMAN che lavorano per i servizi di igiene ambientale presso la ASL 1. Si tratta di più di 100 lavoratori e lavoratrici addetti alle pulizie, di ospedale e non solo. Il segretario provinciale della Fesica Servizi Marcello Vivarelli denuncia una situazione che vede il sindacato in attesa di un incontro con la ditta da 50 giorni e lamenta diverse problematiche per i lavoratori a partire da alcuni pagamenti per arrivare a problematiche inerenti la vestizione. Inoltre, come denuncia lo stesso Vivarelli, c'è un malumore diffuso e qualche frizione con una rappresentanza sindacale della CGL che però, precisa il segretario, non vuole assolutamente essere un attacco ai segretari o al sindacato stesso. Lamentiamo il mancato pagamento del 25% delle festività della domenica. Lamentiamo che non sono state firmate clausole flessibili ed elastiche quindi non abbiamo dato opportunità all'azienda di poterci far girare senza avvertimento e quindi ci fa fare il recupero alle operaie e alle lavoratrici senza concordarlo. C'è chi ha la divisa estiva e chi non ha addirittura la divisa e chi non ha la divisa invernale e quindi anche lì capiremo se ci sono i presupposti per richiedere un ristoro economico per l'abbigliamento usato dalle lavoratrici. La vestizione, ci sono sentenze della Cassazione passate quindi in sudicato, diciamo così, dove dice che la vestizione si fa durante l'orario di lavoro, quindi le dipendenti non devono andare 20 minuti prima per timbrare e quindi stare alle 6 dentro i reparti. L'orario di lavoro è dalle 6 alle 9. L'aspetto poi più grave secondo me è mancato lavaggio delle divise. C'è stata un'ultima sentenza della Corte di Cassazione, adesso non ricordo il numero, ma del 2019 dove dice che l'azienda è colei che deve preoccuparsi nel lavaggio delle divise, soprattutto in questo momento di pandemia. Non vedo perché le lavoratrici, madri di famiglia devono riportarsi l'abbigliamento a casa e quindi uscire dall'ospedale con l'abbigliamento, tornare a casa, rivestirsi a casa e tornare in ospedale. Non è tollerabile poi che anche chi rappresenta la grande sigla sindacale metta delle rappresentanti aziendali dove secondo me non hanno mai fatto un corso di aggiornamento o non capiscono come funziona fare la rappresentante sindacale. Questi episodi li racconteremo davanti alla Dussmann, li racconteremo alla Direzione Generale dell'As e se ci sono i presupposti alla Procura della Repubblica. Per Vivarelli esiste quindi un malcontento diffuso tra i lavoratori che rischia però di ripercuotersi sul servizio ai cittadini e dunque è giusto che il sindacato tutela i lavoratori ma anche la preziosa opera di tutti i medici e gli infermieri impegnati ormai da tempo nella gestione della pandemia e dell'ospedale, precisa il segretario.